Ciao, cari sordi italiani, desidero darvi una serie di informazioni relative ai conguagli effettuati da parte dell'Inps. Io e consiglieri direttivi siamo molto rammaricati della confusione che si è venuta a creare e della diffusione di informazioni non corrette. Accetto anche che mi siano state mosse delle critiche generate dalle informazioni che avevo condiviso con voi quando vi avevo detto che sarebbe stato effettuato un unico conguaglio. Ci tengo a precisare che ho agito in totale buona fede, ho chiamato personalmente il direttore centrale dell'Inps, che si occupa di pensioni e di invalidità civili, con l'intento di darvi informazioni corrette. Abbiamo avuto uno scambio telefonico diretto, non ho incaricato terze persone di occuparsene e in quell'occasione mi è stato detto che il conguaglio sarebbe stato effettuato una sola volta. Pertanto vi ho riportato questa informazione. Poi sono venuto a conoscenza che in alcuni casi era stato eseguito un doppio conguaglio e questo ha creato un grande caos, anche perché nel frattempo aumentava il numero delle segnalazioni. Per tale ragione ho chiesto nuovamente un incontro con la direzione centrale dell'Inps, che si è svolto da remoto lo scorso 8 febbraio, alla presenza del direttore, di funzionari e di dirigenti, sempre con l'intento di avere chiarimenti circa le modalità relative alle procedure di conguaglio, dal momento che in alcuni casi non è stato effettuato, in altri una sola volta e in altri ancora due volte. Anche a loro non sono chiari i motivi di questa disparità di trattamento. È abbastanza prevedibile perché le procedure cambiano di continuo ed escono sempre nuove norme. Si è discusso a lungo di questo argomento, sarà necessario fare le dovute verifiche per capire se si è trattato di un errore del sistema informatico che ha sottratto automaticamente le somme. Una bella notizia riguarda l'accoglimento dell'invito che abbiamo rivolto all'Inps finalizzato all'organizzazione di una diretta streaming per poter dare delucidazioni relative alla circolare Inps numero 135 dello scorso 22 dicembre, con particolare riferimento all'articolo 6,1 e 2 che presentano delle differenze. Sono molto grato che abbiano accettato il nostro invito perché è fondamentale che siano degli addetti ai lavori a spiegare quanto sta accadendo. È possibile che si siano verificati degli errori nei calcoli e che pertanto quelle somme vadano restituite, però è importante capire nel dettaglio quali siano i motivi di tutti questi casi. I conguagli sono stati effettuati anche sulle indennità di comunicazione percepite dai minori. È opportuno lasciare loro il tempo necessario per fare le dovute verifiche. Una volta che avranno ricostruito il quadro della situazione avvieremo la diretta streaming sulla pagina Facebook istituzionale dell'ENS. Ero convinto che i rappresentanti Inps avessero ben chiara la questione, invece non lo è neanche a loro. Ho chiesto anche ai presidenti nazionali di FAND, UIC, ANMIL e ANGLAT se avessero riscontrato le stesse problematiche, ma a quanto pare no. Ho fatto loro presente che le persone sorde hanno diritto ad avere informazioni chiare che, al contrario, spesso sono contrastanti. Si sono messi a disposizione nel caso avessimo avuto bisogno di aiuto, ma ho provveduto a contattare personalmente il direttore centrale Inps che, ribadisco, non appena sarà venuto a capo della questione prenderà parte la diretta streaming che sarà accessibile grazie al servizio di interpreta e dato l'IS, la cui data vi sarà comunicata in seguito. Ripeto, sono davvero rammaricato che, pur avendo agito in buona fede, dandovi delle informazioni che mi erano state riportate, alcune persone abbiano assunto un atteggiamento incivile, nei miei confronti e nei confronti dei consiglieri direttivi. Io non credo che si debba arrivare a tanto. Noi ci impegniamo al massimo. Abbiamo avuto il confronto con l'Inps, ci sarà la diretta streaming in cui verranno dati ulteriori delucidazioni. Spero che per il momento i chiarimenti forniti siano sufficienti. Grazie per avermi seguito. Un saluto.